L'ospedale San Bortolo di Vicenza tiene alla seconda ondata d'urto del Covid. Nessuna caccia nuovi posti letto perché di fatto si è già provveduto, rosicando di reparto in reparto, a crearne altri 60. L'ospedale di Vicenza passa così da una dotazione di 152 posti letto da destinare a pazienti Covid a 210. Abbiamo trovato ulteriori sistemazioni per i pazienti Covid in area medica, quindi sia nella medicina di Vicenza che nella medicina di Valdagno. Abbiamo ampliato, quasi raddoppiato i posti letto nella pneumologia e abbiamo anche la collaborazione della Casa di Cure Retenia che appunto accoglie un po' di pazienti più stabili per carità, ma insomma un po' di pazienti Covid anche da Vicenza. Soluzione che però vede inevitabilmente sacrificate alcune attività ordinarie come la chirurgia plastica, l'otorino-laringoiatria e l'ortopedia. Implementazione che fa rifiatare i reparti di malattie infettive attualmente piena come geriatria, la medicina dell'ospedale di Novento e la stessa pneumologia del San Bortolo. 150 tutt'oggi pazienti Covid ricoverati nei vari ospedali e reparti dell'uslotto Berica, 110 sanitari a casa positivi. I tempi di degenza si sono lievemente accorciati e i pazienti coprono varie fasce di età. Rispetto a primavera già si parte con cure mirate dall'uso dei cortisonici ai protocolli antivirali, al plasma iperemmune. La pressione sulle strutture ospedaliere conferma la stessa direzione dell'usl è forte e l'appello che viene fatto ancora una volta è di recarsi in pronto soccorso se in presenza di sintomi da Covid, previa magari telefonata al medico di base che diventa filtro fondamentale. Obiettivo rimanere in fascia gialla. Che non ci sia un perafflusso, che magari i pazienti aumentino ma con una certa regolarità.